Musica Ancora nessuna intesa tra la regione Calabria e l'Università Magna Grecia sullo futuro della fondazione Tommaso Campanella, il centro per la ricerca e la cura dei tumori di Catanzaro che rischia la chiusura senza un accordo tra i due soci fondatori che dia attuazione alla legge regionale numero 63 del 2012. Ieri è una giornata molto convulsa che si è protratta fino a tardanotte al termine di una lunghissima riunione nel Dipartimento Regionale Salute il presidente della regione Scopelliti, il rettore dell'Ateneo Quattrone e il subcommissario per l'attuazione del piano di rientro del deficit sanitario Luciano Pezzi hanno rimandato di nuovo la firma dell'intesa e definito alcuni passaggi da compiere nelle prossime due settimane per verificare l'impatto anche in termini economici del nuovo assetto che prevede il trasferimento delle unità non oncologiche della fondazione all'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini. Abbiamo deciso di istituire una commissione paritetica, detto Scopelliti al termine dell'incontro che possa verificare nel giro di 15 giorni i costi complessivi di quest'operazione e della struttura che dovrà supportare l'azienda Mater Domini. Bisognerà capire poi che chi paga il disavanzo è la regione e qui c'è una debito importante che è di circa 27 milioni di euro. Con il generale Pezzi abbiamo anche dato la disponibilità nella fase di start-up così come chiede il Rettore di dare alcune mensilità raddoppiate in modo da agevolare la fase di implementazione delle nuove attività. C'è la nostra volontà massima di chiudere questa partita ha proseguito il Presidente della Regione per dare una risposta ai lavoratori anche se è comprensibile la cautela dell'Università che deve affrontare una nuova stagione ed ha bisogno nel dettaglio di elementi tali da non commettere passi falsi. Spero che questa vicenda si possa chiudere veramente in poco tempo perché altrimenti corriamo il rischio di non dimostrare efficienza nella pubblica amministrazione. Il Governatore Scopelliti ha annunciato che nel corso del Consiglio regionale di lunedì 29 aprile sarà approvata una modifica della legge regionale numero 63 con l'aggiunta di un comma per agevolare ancora di più questo percorso ed ha sottolineato che l'attività della Fondazione nonostante le difficoltà può andare avanti e con i 4 milioni e mezzo che abbiamo erogato a proseguito Scopelliti si può alleggerire la situazione e dare respiro. È inammissibile che i nuovi ricoveri vengano bloccati per una comunicazione dei revisori dei conti ai primari. Il gruppo dirigente che è delegato a rappresentare la regione deve garantire la governabilità della struttura e del funzionamento si deve assumere le sue responsabilità. Ed anche dal tavolo è emerso che dietro c'è stata una manovra per creare tensione ed allarmismo. Questa mattina nel rettorato dell'Università Magna Grecia conferenza stampa dei vertici della Fondazione Tommaso Campanella oltre al rettore dell'UMG professore Aldo Quattrone erano presenti anche il presidente delle CDA della Campanella professore Paolo Falzea il direttore sanitario del Polo Oncologico dottoressa Patrizia Doldo il direttore del reparto di cardiologia delle Policlinico Mater Domini professore Ciro Indolfi. Il rettore Quattrone ha spiegato le ragioni che lo hanno indotto a non firmare l'intesa al momento ha detto la proposta d'accordo a molti aspetti normativi non definiti che non tutelano l'Università per le unità operative non tutelano il personale della Fondazione Campanella che in queste unità dovrebbe lavorare attraverso meccanismi convenzionali la mancanza di finanziamenti adeguati e di normativa adatte alle convenzioni per l'utilizzo delle personali della fondazione non mi ha consentito di firmare un'intesa sicura il personale ha sostenuto ancora Quattrone in parte continuerebbe a lavorare per la fondazione in parte dovrebbe prestare la sua opera per l'azienda Mater Domini ma al momento attuale non ci sono le condizioni per essere sicuri che ciò possa accadere io come rettore non me la sono sentita di sottoscrivere un accordo perché mio dovere è tutelare la Campanella e l'Università e fino a quando le condizioni non sono certe dal punto di vista economico e normativo il rischio permane l'Università sta facendo sicuramente più del suo dovere ha proseguito Quattrone, ha comprato e pagato da sola tutte le attrezzature presenti l'Università contribuisce quindi in maniera sostanziale all'esistenza e dalla formazione dei medici del futuro la Regione Calabria deve capire cosa vuole fare di questa struttura e che ruolo affidarle io non voglio sentirmi un mendicante né di intese né di risorse Professore Quattrone, un'altra giornata convulsa fino a tardanotte addirittura ma nessuna intesa è trovata Sì, siamo stati fino alle due e mezza cercando di valutare la possibilità di sottoscrivere un'intesa che purtroppo non è stato possibile sottoscrivere non certo per volontà del Rettore o perché il Rettore fa i capricci il Rettore può sottoscrivere un'intesa che tutela l'Università, i giovani e la Facoltà di Medicina quando queste condizioni non ci sono un Rettore non può sottoscrivere questa intesa perché un Rettore non può rischiare di compromettere in modo sostanziale il percorso formativo degli studenti di medicina questo è il motivo vero la causa per cui non ho sottoscritto l'intesa non c'erano le condizioni per poterlo fare Lei diceva di essersi sentito per un attimo ieri un mendicante di risorse e di intese che non c'erano È vero, ho avuto questa impressione ho detto che non volevo mendicare perché non ero lì per mendicare risorse ma era la Regione che doveva avere la sensibilità di offrire risorse a una grande facoltà che è ospitata nel suo territorio noi siamo andati lì a esprimere il nostro disagio mi sono sentito davvero a disagio a dover significare che era importante stabilire la quantità delle risorse necessarie per attivare queste strutture è brutto sentirsi i mendicanti noi non siamo dei mendicanti noi sosteniamo con orgoglio e con forza la nostra Università se la Regione non ha interessi a sostenere la sua facoltà di medicina può anche dirlo Ora con quale prospettiva si guarda alla giornata di lunedì? Ma io non guardo nessuna giornata dopo tanti settimane e mesi di confronto devo dire che sono anche un po' deluso e amareggiato non ho più tanta fiducia penso che non bisognava arrivare dopo tanti mesi a dire che ancora le cose non sono chiare che c'è tanta incertezza che si può sottoscrivere un protocollo che per ora non dice niente e poi si vedrà cosa fare io quando sottoscrivo un protocollo sottoscrivo un atto formale e in quell'atto deve esserci tutto dalla chiara dizione di ciò che si vuole fare alle coperture economiche relative nessuno sottoscrive un protocollo in cui la copertura economica non c'è e sarà determinata dopo Senta, in conferenza stampa diceva anche di sentirsi un po' difensore di un'istituzione non troppo amata Io penso che i cittadini cadanzaresi l'amano il sindaco l'ama però è necessario che la sostenga anche la Regione è la Regione che ha la responsabilità principale ed è dalla Regione che voglio sentire queste parole voglio sentire una Regione interessata a sostenere la sua facoltà a sostenere i suoi giovani che sono la nostra vera risorsa e a cui tutti noi abbiamo il dovere di pensare Ha anche affermato che l'Università ha fatto più del suo dovere L'Università fa più del suo dovere non solo ha fatto ma fa più del suo dovere perché mette a disposizione gratuitamente dell'azienda Mater Domini queste bellissime strutture, le attrezzature il personale universitario che lo ripeto è pagato per i due terzi allo Stato l'Università impegna tutte le sue risorse per i giovani per consentire ai giovani di diventare dei buoni medici per consentire loro di poter rimanere in questa terra per consentire a questi giovani di avere un futuro perché la Facoltà di Medicina e la Laurea di Medicina rappresentano un futuro per i nostri ragazzi Per concludere, ieri abbiamo ascoltato alcuni lavoratori e di fiducia ormai ne avevano davvero poca di speranza Ma io questo veramente non me la sento in un momento così confuso di rassicurare nessuno perché fino a stanotte alle due e mezza siamo usciti con delle idee molto diverse l'unica cosa che abbiamo condiviso è la nascita di una commissione paritetica che deve valutare ancora dopo anni i costi di queste unità quanto si può dare e quanto non si può dare alla Facoltà di Medicina non penso che dovrebbe essere questo lo spirito la Facoltà di Medicina dovrebbe essere potenziata e basta a costo di qualunque sacrificio perché qui c'è in ballo il destino di tanti ragazzi e il futuro della Regione Calabria Grazie a tutti